Vogliamo chiarire, inizia così la nota stampa di Cesare Carnaroli, presidente di Passaggi Festival e Giovanni Belfiori, di attore e direttore dell'iniziativa, che hanno voluto discolpare in parte il comune di Fano. Infatti, dopo l'annuncio di voler lasciare la città per problemi economici, gli organizzatori sottolineano che non intendono chiedere all'amministrazione di stanziare più soldi. Si aspettavano però un maggior impegno nel coinvolgere quei soggetti, in grado di sostenere l'evento che porta in città oltre 50 appuntamenti in quattro giorni e ad ingresso gratuito. Ci siamo sentiti soli, hanno detto. D'altra parte, non sono mancate critiche e polemiche, come quelle del presidente della ConfCommercio, Renzo Capecchi, che ha chiesto al sindaco Seri di revocare la delega all'assessore al turismo e alla cultura. Marcheggiani, invece, ribadisce la piena collaborazione con il festival. Il Comune ha fatto la sua parte secondo gli accordi presi con loro, non c'è stato richiesto altro. Abbiamo messo a disposizione Piazza 20 settembre subito, siamo andati al Salone del Libro a presentare l'evento e abbiamo fatto, grazie anche all'aiuto determinante del Consiglio regionale Minardi, inserire l'evento per la prima volta nei fondi strutturali della Regione Marche. Quindi siamo disponibili, fin da queste ore, a chiarire un equivoco che credo sia questo, perché l'amministrazione comunale, come assicurava il professor Nando Dallachiesa, proprio a Torino, è vicinissima al festival e ci tiene a mantenerlo. Bisogna però probabilmente incontrarsi in queste ore, se loro lo vorranno, noi siamo subito disponibili per capire il futuro, ma anche le ambizioni e la struttura organizzativa del festival che non dipende dal Comune di Fano. Noi facciamo la nostra parte, ma siamo disponibili al colloquio immediato.